Mi trovo qui al santuario di San Padre Pio, movito, ispirato, toccato della vita di questo uomo, che il suo amore va più al di là dell'Italia, perché penso che Padre Pio ha toccato il cuore del mondo in quella doppia dimensione che l'ha fatto Cristo, la semplicità e la umiltà. Questi due grandi atteggiamenti che oggi richiama il mondo, perché l'uomo di oggi è un soperbio, l'uomo di oggi sta cercando di creare un uomo diverso. Le chiamano oggi l'uomo telematico. Il cuore non entra in questo campo, il cuore non entra in un chip o è un microchip, il cuore sta dentro dell'uomo e il cuore è la radice dell'amore e solo lì possiamo avere una lettura attuale del mondo di oggi. Padre Pio è questa lente che ci fa capire oggi a tutti che solo nell'amore l'uomo trova la risposta giusta, inequivocabile. E quando dico giusta è perché l'amore va all'altro, e l'amore mai rimane dentro di noi, e l'amore cerca l'altro come l'ha fatto Cristo. sono venuto nel mondo per servire, sono venuto nel mondo per dar la vita per l'altro. Ecco perché sta in croce, ecco perché la vita del padre Pio è il crucificato di oggi e di sempre, perché soltanto di lì si può capire l'uomo. Aveva un teologo famoso che diceva vuoi capire quanto ha amato Cristo? Inginocchiati davanti al crucifisso e capirai che cosa è l'amore. Mi trovo in questa terra del Santo per rinnovare anche io il mio servizio, per capire un po' l'uomo di oggi, per rinnovarmi anche nel mio servizio sacerdotale, perché in questa figura troviamo tutto quello che Gesù ci ha fatto. Penso che il padre Pio è la sintesi dell'Apostolato di Cristo, un uomo che ha confessato tanto, un uomo che ha toccato l'anima di ogni creatura. Ecco perché oggi ha cercato il padre Pio, perché è la prolunga di Gesù. Questo è stato per me un rinnovamento in questi giorni, per poter servire l'altro. Il sacerdote di oggi deve essere come lui, un uomo che entra nel cuore dell'altro, non per giudicarlo, ma per sanarlo, salvarlo e rinnovarlo. Perù è un paese oggi con grande speranza. Il Perù sta in questo momento vivendo, anche come qua, una trasformazione migratoria. Dico questo perché al Perù stanno arrivando del Sud America diverse persone che vanno emigrando. Abbiamo soltanto già praticamente tre milioni di venezolani in Perù che vanno fuggendo di una situazione difficile, di una situazione politica che ha preso una strada equivocata. Il Santo Padre costantemente non sta parlando che oggi dobbiamo aiutare l'uomo, salvare l'uomo, darle tutte le condizioni che possono aiutare a questo uomo che viva in pace e in serenità. Invece no è così. La politica di oggi è totalmente malata. Siamo entrati in una idolatria del potere e questo distrugge. Abbiamo la fortuna che più di un anno e mezzo il Santo Padre ha visitato il Perù. Perù ha risposto con un tsunami umano di fede che il Papa ci ha sentito felicissimo. Anzi, ha fatto il dono di convocare nella foresta amazzonica nel suo primo incontro con i nativi di là e il sinodo per l'Amazzonia. Quest'anno, a ottobre, si realizzera. Il Papa ha voluto vedere e servire a questa comunità andina, a questa comunità con una presenza preferenziale di lui, la tenerezza di Dio, in tutte queste comunità che sono un poco dimenticate e sfruttati. Ecco perché è importantissimo questo sinodo del quale stiamo pregando, che sia veramente una parola, una risposta a tutte queste sfide di oggi nel servizio e nel ministerio della Chiesa. Perù entra dentro di poco nel bicentenario della sua indipendenza. 200 anni che il Perù si è liberato. entriamo in un momento importante perché il Perù sta in una crescita economica per la vasta terra che ha e la opportunità che ha. Molti nel mondo guardano il Perù e stanno andando a invertire. Parlando del Perù che ha emigrato fuori, in Italia abbiamo 110.000 peruviani in tutta Italia. Il peruviano che ha emigrato in Italia non soltanto ha portato la sua valigia. Dentro di quella valigia ha portato anche la sua cultura, la sua fede, la sua tradizione. Precisamente la Chiesa italiana mi ha nominato a me per poter seguire tutto questo gruppo, tutto questo Perù che vive in Italia. E' bello perché in diverse parti dove si trovano la comunità peruviana ha portato quello che è il tesoro più ricco che il Papa ha chiamato al Perù terra insantata. Noi portiamo questa devozione popolare come dirà Paolo VI questa piedà popolare della processione del Signor dei Miracoli. Per noi questo è Cristo dice tutto. Questo è Cristo viene dipinto in una epoca molto dura del Perù quando si commercializzava la carne. Questo è Cristo viene dipinto in un capannone dove si vendevano gli schiavi. In questo capannone vecino sono nati Santa Rosa di Lima San Martino di Porres Santa Rosa la prima santa del Perù e del nuovo mondo sconosciuto. Ecco che è importante capire che l'emigrato deve portare sempre le cose buone che porta dentro per realizzare il futuro in quel incontro con l'altro. Ecco perché Paolo Apostolo dirà il cristiano il cristiano non è straniero il cristiano dove va trova la sua casa e la sua casa è la chiesa e i fedeli sono i suoi fratelli. Certo che questo abbiamo tanto da fare ancora perché non l'abbiamo capito del tutto però siamo in quel binario con la fede con l'umildà poter camminare insieme come fratelli. Il mondo di oggi sta cambiando totalmente. Il viso dell'Europa dell'Italia e di altre parti del mondo non è lo stesso di prima. Sta entrando in una dinamica del cambio perché Dio l'ha voluto così ma a questo dobbiamo essere preparati. In questo non entra la matematica qui soltanto entra l'amore. Io credo che Padre Pio è più amato fuori dell'Italia che nell'Italia. Sono tantissimi tantissimi pellegrini che io ho trovato del Perù qui in Italia per Padre Pio. Penso che in Perù sono diversi gruppi di preghiera di Padre Pio. Io credo che è entrato questa devozione a lui per questo impatto che ha tante volte considero che Padre Pio è la seconda o la terza incarnazione di Cristo in questa persona. Vedere Padre Pio è vedere Cristo. Per quello io credo che è entrato nel cuore di tantissimi. Allora dobbiamo capire è vero che ogni santo è più amato che imitato ma se uno entra nella vita di Padre Pio veramente lo unico che possiamo dire è che Dio ha vinto nella sua vita e ha vinto perché è stato umile ha vinto perché ha obbedito alla Chiesa mai ha protestato come diceva Santa Teresa di Avila chi obbedisce mai sbaglia invece oggi siamo tanti che contestano anche all'obbedienza e in questo mi metto anche io ci manca tanta umiltà ci manca tanto di poter aprirsi alla grazia per poter essere come lui io credo che in questo ha stato la parte magica spiritualmente che entrava nel cuore del piccolo del humile del contadino nazionale di tutti i confraterni della confraternita del Signor dei miracoli la convocco io e lì l'incontro aiuta a capire la testimonianza cioè Cristo viene proclamato Cristo viene conosciuto se queste due cose si danno Cristo viene offerto all'altro ma nella testimonianza in questo io credo che due giorni che staremo insieme è per approfondire la bellezza che oggi Cristo ha bisogno di noi ha bisogno nel senso che dobbiamo diventare apostoli della misericordia i peruviani devoti al Signor dei miracoli portano un abito viola che io l'ho chiamato è l'uniforme della misericordia poi portano è una grande macchina il Cristo è una processione che poi diventa una evangelizzazione perché tante volte una processione lo che uno deve vedere è quello che portiamo e nel silenzio quel Cristo va entrando in chi lo guarda per me questo è il secreto però questo come dice il Papa dobbiamo anche dar ragione a quello che uno crede e per questo si dobbiamo preparare un convegno nazionale viene a toccare il pulso come stiamo come va la nostra presenza come va il nostro amore a Gesù in questa partecipazione anche c'è una conoscenza orizzontale quello del norte del centro e del sud e insieme dobbiamo capire che cosa stiamo portando la Chiesa si va rinnovando ma l'amore va tonificando internamente quello che uno ama ecco perché questo spero che sia come l'anno scorso sono già il sexto convegno nazionale che facciamo tutti i peruviani davanti a Gesù il crucifisso padre Pio è un amante del crucifisso io creo che oggi è è l'unico mastil che l'uomo deve vedere lo ha visto lui lo stiamo a vedere oggi noi lo verranno quello che vedranno dopo di noi perché dico questo perché San Paolo disse Gesù lo è stesso ieri oggi sempre io in questo voglio anche chiedere che questo incontro che abbiamo sia rinnovarsi in questo amore che no esista divisione tra di noi e l'amore une e il no amore divide il cristiano è un ente che une mai che crea divisione la divisione è sempre satanica padre Pio è stato un uomo che ha saputo unire il cielo con la terra è una vita pasquale è una vita totalmente donata senza condizione questa kenosis del padre Pio ci ha fatto ricordare quello che ha fatto Gesù per noi per quello di qui di questa terra del padre Pio porto una grande speranza che tutti quelli che ascoltano rinnovano il suo amore Gesù oggi Cristo è il grande bisognoso Cristo ha bisogno di noi Cristo urla perché noi siamo capaci di diventare come lui ma per essere così soltanto dobbiamo trovare una cosa la umildà e l'apertura del cuore non esiste un altro cammino perché se no è così avremo sempre cristiani di camomila cristiani sciappi senza sale cristiani che ci manca il sapore di essere cristiani cristiani purtroppo esistono cadaveri che camminano ce li vedi belli ma dentro vuoti il santuario del padre Pio come diceva anche il Papa questa fede di questa piedà popolare è un santuario fa trovare il popolo con Dio e il popolo con il suo pastore ecco perché in ogni santuario deve avere il sacerdote che accoglie il sacerdote che confessa il sacerdote che anima il sacerdote il anima a ritrovarsi con Dio e un santuario non può mancare il sacerdote ma il sacerdote anche deve stare preparato per toccare l'anima di colui che viene perché viene un popolo simple non viene un teologo viene uno che ama o viene uno che deve renovare suo amor a Dio ecco perché i santuari sono il centro di grande peregrinazione ma di grande rinnovazione e per questo dobbiamo stare lì e in ogni cristiano Dio se va rinnovando perché il che viene a Padre Pio non è che torna peggio di quello che è venuto mi diceva a me un grande peregrino padre quando vado a un santuario me confesso dopo quando torno a casa faccio lo stesso no il che viene a un santuario se rinnova quando torna a casa è un altro però questo se da grazie anche alla accolienza che il sacerdote a quello che accoglie quante cose semplici hanno dato la vita io creo che il santuario di Padre Pio è questo per questo che vengono tantissimi tantissimi peregrini come ogni santuario dove sta la Madonna dove sta un santo dove sta un fedele che ha stato attento alla parola all'ascolto della volontà di Dio finisco con questa parola molto bella di Gesù se avete fede farete cose più grandi della quale io non ho fatto di Dio di Dio di Dio